Buonanotte, ci vediamo domani. Eh? Ora che scendi, no, le butti a una a una, poi torni, sto già a letto da un'ora. Se ci andassi tu qualche volta... Ma butta tutto insieme, che fatica. Ma chi te lo fa fa... Chi glielo fa fare? Vieni con me che te lo faccio vedere io, chi glielo fa fare, va. Te lo presento, guarda. Ma stavo rigliando. Ma vieni che magari oggi impari anche qualcosa, dai. Eppure gratis. Comunque io scherzo, eh. Non è che ogni cosa se la devi prendere così sul serio. Guarda, se voglio di ridere, guarda di me su internet. Quanto manca? Manca il tempo che ci vuole. Da bo. Allora, questa qui è una vetreria. Qui il vetro arriva, lo fondono dentro dei forni e ci fanno venire fuori delle bottiglie nuove. Vabbè, va. Vieni con me che ti faccio vedere una bella cosa. Dai, vieni. Ma va che bella che è quella goccia di vetro fuso che prende la forma della bottiglia. Il vetro si può riciclare all'infinito, eh. La magia del riciclo è che questa bottiglia qua è nuova. Scusa, è che io mi faccio prendere. Oh, sono proprio appassionato. O c'è chi gli piace il calcio, o a me mi piace il riciclo. Questo vuol caddecca. Ognuno ha i suoi gusti. Allora, hai capito adesso chi glielo fa fare tua moglie? Il rispetto per l'ambiente glielo fa fare. Spero proprio che da oggi lo farei anche te. Ci penso. Vabbè, va. Andiamo perché se no qua si metto a guardare le bottiglie. Ciao. Facciamo notte. Oh, indagna! Ciao. 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 Ciao.